nella giornata di oggi giovanni albanese direttamente sportitalia ci ha parlato di quella che la sezione legata alla juventus e soprattutto di questo famoso rinforzo che serve inevitabilmente per andare a colmare una lacuna quella creata l'infortunio di bremer e attenzione però perché le notizie che ci dà giovanni albanese sono particolarmente interessanti dobbiamo analizzarle insieme qui se facciamo i miei sport io vi ricordo come sempre che qui sarete sempre aggiornati mania costante in maniera gratuita non vi costa nulla seguirci non vi costa nulla diciamo tra virgolette tenervi aggiornati sulle vicende alla vecchia signora di base iscrivervi al canale lasciare like i contenuti se la condividete sui vostri social sulle vostre varie piattaforme questi contenuti per allargare sempre di più questa community che ama discutere di calcio in maniera sana e genuina e trasparente trasparente è stato anche giuntoli nel dire sì ci serve evidentemente un rinforzo per quanto riguarda la difesa lo ha detto chiaramente di fronte ai microfoni da zone ed è per questo quindi che serve qualcuno che possa aiutare il tridente composto da danilo gatti caluno gli unici tre centrali in questo momento alla juventus con gatti che ogni tanto c'è anche tanto non c'è calulo che era partito per fare il terzino e danilo che è da centrale sta dando parecchie complicazioni quindi quali sono gli obiettivi diciamo che albanese ci parla di due nomi il primo che abbastanza risaputo il secondo è un'assoluta sorpresa che non ci aspettavamo e che però l'alternativa del primo perché se per qualcun altro l'ipotesi ismail è un'ipotesi concreta giovanese non la prende in considerazione dice il numero uno e il sogno della juve è mila scrina mila scrina è il nome scelto alla juve che ha intenzione e albanese ha già detto più volte di andare incontro a un a un colpo secco cioè a gennaio non c'è tempo di sperimentare ismaili è troppo una scommessa scrina è un nome certo un nome concreto un nome valido di settimana in settimana vediamo che c'è sempre meno presente il nome di scrina all'interno di tabellini della ligana e la cp per quanto riguarda il il contesto parigino dove lui se ricche non lo vede proprio ed è per questo quindi che screener che in italia ha lasciato un bellissimo ricordo tra sampdoria e soprattutto inter continua a essere quel nome che diciamo viene spinto di più dalla società anche perché ci sono una serie di fattori che coincidono il fatto che il psv se ne può liberare in prestito e questa è un'opzione che piace molto alla juve il fatto che il giocatore si sia praticamente offerto alla juve perché ha detto io qua non non gioco quindi ho bisogno di giocare ho bisogno di trovare la mia continuità il fatto che il psv può anche avere un vantaggio da questo perché il psv può essere d'accordo a sei mesi di prestito per poi venderlo a giugno a una cifra importante perché se tu lo tieni al psg vuol dire che a giugno e sicuramente te ne libererà a titolo definitivo lo potrei vendere una cifra bassa e considerando che lui è un ingaggio da 10 milioni di euro ebbene non è facile mentre se tu lo dai in prestito per sei mesi alla juve e la juventus magari te lo valerizza ecco che a giugno quest'ultimo può avere più chance di lasciare la tour eiffel è un 29enne quindi venderlo non è poi così tanto facile e il primo passo deve essere quale quello della volontà del psv di a darlo in prestito secco b dare una sostanziosa parte dell'ingaggio perché ripetiamo che mina scrina guadagna 10 milioni di euro di fatto sappiamo che il rapporto è praticamente nullo col suo allenatore e lui più volte l'ha detto ha detto la situazione non è quella che mi aspettavo non sono felice continuo ad allenarmi bene e lavorare solito certo mi piacerebbe avere più opportunità ma rispetto alle decisioni del minister di fatto gli agenti di screener si stanno già muovendo per capire quali sono le possibilità concrete la juventus è una di quelle attenzione però perché giovane albenese ci dice occhio perché pista screener non è scontata cioè sì ci sono le probabilità che questo possa avvenire c'è un trasferimento e anche la juventus a gennaio ma non è poi così scontata perché quando si parla di cifre così importanti non va dato per scontato nulla e quindi si valutano delle alternative l'alternativa che è secondo giovane al e la più probabile più plausibile più interessante è quella di jacques bijol centrale difensivo degli udinese che da un paio di stagioni sta mettendo in mostra a udine a fronte di un contesto che lo ha valorizzato in pieno e ed è il classico giocatore su cui la juventus potrebbe puntare nel senso che anche questo potrebbe essere diciamo un colpo alla alla calunia se vogliamo dirlo in che senso è il classico nome che quando lo metti in circolazione quando giuntoli magari lo propone può essere un nome che non fa saltare dalla sedia nessuno perché di fronte al nome alla screener tutti dicono è un nome che ci fa saltare in aria è un nome che ci fa fare il salto di qualità di fronte come quello di bijol magari non esattamente però è un profilo che piace soprattutto aggiunto è un nome che piace perché lo vede come una sorta di nuovo screener uno screener che può arrivare lui ha 25 anni è un profilo che piace anche in questo caso però non è facile tra virgolette non è facile andarlo a bloccare perché perché l'udinese sicuramente non lo cede in prestito giovane albaese ci dice che il prestito secco è un qualcosa da scartare completamente quindi diciamo che se questi ultimi lo dovranno vendere lo venderanno a titolo o meglio con un prestito con obbligo condizionato a determinate condizioni esempio l'evento si qualifica in champions league ecco che scatta l'obbligo di riscatto da parte della juventus e quindi vedremo è un nome che intriga un nome però che non sembra esattamente in linea con quello che il calcio di di tiago motta perché a volte piacciono più i difensori che si possono staccare la linea e bisogna esattamente il bisogno è un difensore più vecchio stampo centrale difensivo si bravo a impostare però non è esattamente il difensore che sale dall'altra parte la in fase offensiva fa le sgroppate no non è quel caso di pensare il difensore centrale puro fisico alto molto bravo nei due li aerei molto fisico tecnicamente non è esattamente iniesta però diciamo che un difensore che si sta facendo notare all'udinese che tra l'altro è entrato anche lui nel mirino dell'inter e questo è un aspetto interessante perché solitamente quando un giocatore in orbita inter la juventus comunque gli occhi gli rimette anche soltanto per un'operazione di disturbo io credo che questa possa essere più un'operazione di disturbo che altro detto ciò gli ottimi rapporti tra juve udinese potrebbero agevolare come vi dico spesso la situazione juve sempre agevole in quanto dal settore next gen possono sempre arrivare delle risorse e quando si tratta con squadre come il in questo caso appunto come l'udinese che lavora molto bene con i giovani la carta next gen può essere una carta molto sfruttabile molto utilizzabile a parte di ventos quindi staremo a vedere analizzeremo il tutto cerchiamo di darvi continuità con questa notizia ripeto sono vari nomi stanno facendo per quanto riguarda la difesa però a mio avviso ce ne sono alcuni che hanno più quotazione rispetto ad altri è chiaro che vanno monitorati da quello che abbiamo capito comunque un difensore arriverà ci sono scelte non c'è una scelta da questo punto di vista arriverà sicuramente perché la coperta come già essere un po corta perché ti amo molto a cominciare a richiedere espressamente un difensore al posto di breve un po' di breve Grazie a tutti.